super bonus e problematiche legate al super bonus molti utenti mi contattano tutti i giorni e mi chiedono delle consulenze che poi pagheranno per risolvere delle problematiche che gli si sono poste davanti per via del super bonus al 110 per cento ci sono tantissimi casi di cui normalmente parlo in maniera generica nei miei video e oggi volevo prendere però dei casi concreti di utenti che mi hanno contattato chiedendomi appunto un primo contatto normalmente mi mandano una mail mi spiegano qual è il problema e io poi fisso un appuntamento questo signore ha una problematica in ambito super bonus non dirò nome non dirò città non dirò email per ragioni naturalmente di riservatezza qui mi chiede la domanda è questa ho dato 4.000 euro di caparra prima di iniziare i lavori il general contractor è in difficoltà economiche non può restituirmela e mi chiede se gli posso se posso ricevere questi 4.000 euro con un credito d'imposta con l'accessione del credito d'imposta la risposta è certamente positiva perché perché il credito d'imposta è denaro contante infatti se io comperassi un credito d'imposta da parte di un terzo ad esempio a di 5.000 euro pagandolo 4.000 euro quei mille euro sarebbero un reddito e quindi sarebbe tassato per cui è denaro vero e proprio e poi in realtà è questo il motivo per cui il governo ha voluto combattere la cessione del credito e la circolazione dei crediti d'imposta ci sono dei video in cui lo spiego in maniera assolutamente precisa e dettagliata quindi ti invito a cercarli sul sulla mia rubrica quindi abbiamo detto credito d'imposta come pagamento si non c'è nessun tipo di problema per quanto riguarda il concetto ricevo la restituzione di quel denaro mediante credito d'imposta probabilmente questo signore si farà dare 5.000 invece che 4.000 avendone un vantaggio e va ancora bene è legale ma bisogna stare attenti ad altro infatti questo tipo di questo tipo di negoziazione dovrà essere sigillata da un contratto un contratto di cessione di credito nel quale dovrà essere indicato nella prima parte certamente il nome delle parti il motivo per cui c'è questa cessione del credito verrà indicato anche che inizialmente era stato versato 4.000 euro in contanti probabilmente sarà un bonifico a giustificarlo appunto a titolo di caparra e che attualmente per difficoltà economiche dell'impresa venivano rimborsati mediante la cessione del credito se l'importo è maggiore bisogna giustificare il motivo per cui quell'importo viene maggiorato che potrebbe essere a titolo di interessi a titolo di disagio per non avere il denaro contante immediatamente disponibile ma dover attendere determinate scadenze per poter utilizzare ma poi molto molto o a proposito una dichiarazione nella quale viene indicato che il cedente quindi l'impresa garantisce che quel credito è effettivamente lecito legittimo e che debba essere è nella propria disponibilità e soprattutto è necessaria tutta una serie di documenti i documenti necessari sono quelli indicati nella conversione nella conversione in legge del decreto blocco cessioni è una lista piuttosto lunga ma la documentazione è piuttosto semplice perché perché il soggetto che riceve il credito quindi si chiama cessionario del credito per poter stare tranquillo che quel credito non gli verrà contestato oppure sarà sottoposto a sequestro dovrà dimostrare di avere avuto una diligenza molto alta e questa diligenza si raggiunge può essere dimostrata se si ha la documentazione indicata appunto nella conversione in legge del decreto una volta ottenuta tutta la documentazione si potrà procedere alla sottoscrizione del contratto e il contestuale trasferimento del credito ti ricordo che dal momento in cui tu ordini il trasferimento del credito dovrai attendere cinque giorni affinché questo credito appaia nel tuo cassetto fiscale e quindi poi dovrai accettare il credito in quel momento il processo sarà completo e quindi la transazione sarà effettivamente eseguita questi passaggi devono essere indicati nel contratto perché perché dovrà essere precisamente individuato quale è il momento con il quale si deve intendere perfettamente completata la transazione seguimi sui miei canali sui social sul sito internet campanellina metti mi piace e ci vediamo al prossimo video